Nel marzo del 2013 Nasce il nuovo gruppo consigliare Alleanza Popolare Nazionale, una fusione di diverse realtà di destra per creare una voce in più nell'attuale opposizione. Un soggetto politico fondato sui valori popolari, in riferimento alla dottrina sociale della Chiesa, ma anche ai nazionali, volendo partire dalla valorizzazione delle caratteristiche specifiche dell'Italia. In questo neonato gruppo, figlio del direttivo di Officine per l'Italia, è presente la volontà di raccogliere l'eredità di Alleanza Nazionale, ma anche di altri gruppi provenienti dal centro-destra, tra cui idee più popolari promosso da Luciano Ciocchetti. Il capogruppo di Cittadini per Roma, Gianni Alemanno, spiega quali sono i temi principali che intendono promuovere. Noi insistiamo sulla riforma di Roma Capitale, che deve essere completata, sul piano strategico di sviluppo che deve creare il lavoro, è necessario rimettere in moto l'urbanistica per creare il lavoro, sulla lotta alle nuove povertà e al lavoro nero, e poi un grande impegno per quanto riguarda il decoro della città, per evitare che tutta la città venga disseminata dai campi nomi di abusivi, di un degrado che sta veramente diventando travolgente. Fiora all'occhiello del nuovo gruppo consigliare una campagna in difesa del Made in Italy, denominata a Natale Scegli l'Italia. Ignazio Cozzoli, che ricoprirà il ruolo di capogruppo, volge uno sguardo anche all'Europa. Per quanto riguarda l'Europa noi avremo un atteggiamento responsabilmente eurocritico, stiamo criticando tutto ciò che riteniamo non vada nella direzione di costruire un'Europa di popoli, non un'Europa delle banche e dei burocrati.